Bentornati su No Mamamazzo. Oggi vorrei parlare con voi di The Father, dal sottotitolo italiano The Father Nulla è come sembra. Film che è tuttora nelle sale cinematografiche italiane pure, andatelo a vedere, ve lo consiglio tantissimo. Candidato a ben sei premi Oscar, tra cui miglior attore protagonista a Anthony Hopkins, premio che ha vinto. Miglior sceneggiatura non originale perché è adattata da una piece teatrale di Florian Zeller che esordisce anche come regista cinematografico, quindi porta sul grande schermo una sua piece teatrale. Miglior film, miglior attrice non protagonista a Olivia Colman, miglior montaggio e miglior scenografia. Eh sì, perché devo dire che io avrei anche dato miglior montaggio onestamente e o miglior scenografia perché questo è un film veramente straniante. Ma non sono tanto qui a parlarne dal punto di vista cinematografico perché anche se l'avessero visto in Quattro Gatti vorrei comunque parlarvene perché ci tengo particolarmente. Perché tocca un tema che mi sta particolarmente a cuore che è la demenza senile o la malattia di Alzheimer, il morbo di Alzheimer. Malattia che non tutti conoscono e che se non si conosce quando la si affronta è un tornado. Chi non la conosce o la conosce solo per sentito dire pensa che l'Alzheimer sia la malattia che fa dimenticare le cose. Purtroppo non è solo questo, è molto più di questo. La persona dimenticandosi il proprio passato, prima la memoria a breve termine, poi la memoria a lungo termine, tende anche a dimenticarsi di se stesso. Tende anche a dimenticare le cose che ha imparato in quel momento del tempo che ha dimenticato. Come vestirsi, come i nomi, come a parlare, come a riconoscere le persone che ha generato, come a riconoscere i propri parenti. È una malattia devastante ed è una malattia dell'intero nucleo familiare perché non colpisce solo il malato che ha la sfortuna e fortuna di non rendersi tantissimo conto di quello che sta passando o quantomeno se se ne rende conto poi se ne dimentica, ma colpisce anche i caregiver, colpisce i familiari che subiscono invece tutto l'impatto di quella che è questa condizione. Questo film racconta la storia di Anthony, che è appunto il padre, The Father, da cui il titolo, è il padre di due figlie. La figlia Anne, che si occupa costantemente del proprio padre, e la figlia Lucy, che ha detta di Anthony. Non viene mai a trovarlo, però è una importante pittrice o ballerina, adesso non ricordo, e quindi è impegnata molto tempo. Tutte le volte che Lucy viene nominata da Anthony, la figlia Anne distoglie lo sguardo e si vede, si percepisce che la colpisce al cuore, come una fitta al cuore la colpisce ogni volta che il padre Anthony nomina Lucy. Anne invece appunto viene a trovare spesso suo padre, viene a trovarlo quasi tutti i giorni, ma presto dovrà trasferirsi a Parigi e non potrà più occuparsi di suo padre. Ma Anthony, a parte il dispiacere per il fatto che non vedrà più sua figlia, dice che comunque se la sa cavare da solo. E fin qui tutto normale, vediamo un Anthony che confonde il nome del compagno di Anne, che non è più James, ma è Paul. James è il suo ex marito. Questo confondersi di Anthony però non è un caso, anzi è una cosa già molto importante. Mano a mano che guardiamo questa pellicola capiamo che il film è dal punto di vista del malato di Alzheimer. Detto in un altro modo, il film è un point of view. Voi vivete l'esperienza di Anthony in prima persona. Voi che guardate il film, voi spettatori, vivete l'esperienza di un malato di Alzheimer in prima persona. Una cosa che solitamente non può accadere perché una persona che vive l'esperienza dell'Alzheimer in prima persona difficilmente ha modo di raccontarlo, di essere in grado anche solo di far capire quello che prova. Ma questo film, per quanto una persona che possa averla vissuta l'esperienza, non in prima persona ma magari da caregiver, riesce a capire quanto è verosimile l'esperienza che dà. Vediamo tutti i sintomi della malattia e sono davvero debilitanti, sono stranianti, vi sentirete disorientati, vi sentirete scombussolati. Ciò non toglie che comunque riuscite anche a vivere l'esperienza dal punto di vista della figlia. Negli sguardi che la protagonista femminile riesce a farvi trasmettere dalla sua fantastica interpretazione. Dai suoi sguardi potete capire quanto le fa male vedere suo padre in questo modo. Per quanto ne sappiamo, la seconda figlia, Lucy, potrebbe benissimo non esistere, potrebbe benissimo essere sempre Anne. Tant'è che in un paio di occasioni noi vediamo Anne che ha due volti diversi e non capiamo qual è la vera Anne. Questa è una delle problematiche anche dell'Alzheimer. Spesso il malato non riconosce il familiare, ma non nel senso che dice chi sei, sei uno sconosciuto. Capita anche questo, ma non con i familiari molto stretti, ma capita che il malato capisca che tu sei un loro caro, capisca che tu sei un familiare, ma non capisce di preciso quale, non capisce di preciso il tuo ruolo. Ed è altrettanto una fitta al cuore come se non vi conoscesse del tutto. Mano mano che vado avanti a raccontare, farò dell'inevitabile spoiler. Quindi se non volete giocarvi questa esperienza, che comunque è anche abbastanza forte, vi consiglio di stoppare il video e guardarvi il film, perché appunto se no vi dico delle cose che vi farebbero capire in anticipo questo film. Se invece volete appunto non subire troppo questo straniamento, perché magari vi fa male, siete troppo sensibili, quindi preferite una guida a quello che vedrete, o se avete visto il film e ne possiamo discutere insieme molto tranquillamente, o se non ve ne frega niente degli spoiler, allora continuiamo tranquillamente. Un altro sintomo che prova Anthony è il disorientamento spazio-temporale. Lui è disorientato nello spazio, non sa bene dove si trova e non sa bene in che momento della giornata siamo. Non sa nemmeno bene quando siamo. Se ci fate caso nel film, a un certo punto le piastrelle della cucina sono gialle. Dopo un po' durante il film le piastrelle della cucina e la cucina stessa e il mobilio sono diversi. Le piastrelle sono azzurre e il mobilio è cambiato. In una scena dove Anthony appoggia le borse della spesa che sono vistosamente blu quando c'era la cucina gialla, nella scena successiva, nella cucina gialla, le borse della spesa non ci sono più. Le borse della spesa sono in una scena ancora successiva in cui la cucina è un'altra. Perché questo? Perché nel frattempo Anthony ha cambiato casa. Anthony è passato a vivere per conto suo, a doversi trasferire nella casa della propria figlia Anne e del suo compagno James. Il suo compagno James mal sopporta questa situazione. Nonostante sia la figlia la caregiver, James è in completo burnout, cioè è una situazione che non riesce più a sostenere. Anche la figlia non riesce a sostenerla ma la sta prendendo in modo più costruttivo. James è la mal sopporta al punto che risponde male al malato, che comunque non ha consapevolezza del peso che sta dando alla propria famiglia. James passa dal passivo aggressivo alla vera e propria aggressione verbale e probabilmente anche all'aggressione fisica. Dico probabilmente perché potrebbe anche averla immaginata Anthony, potrebbe anche averla tradotta nella propria testa come una supremazia fisica, quanto in realtà era solo verbale. Vediamo nella testa di Anthony le scene che si ripetono. Vediamo nella testa di Anthony James che ha anche lui due volti. All'inizio potremmo pensare che l'altro volto sia di questo nuovo innamorato di Anne, che sia Paul appunto, ma in realtà noi Paul non lo vediamo mai. Noi vediamo solo James e lo vediamo con il volto di James, presumibilmente, e con il volto di Bill, l'infermiere. Questa comunque è un'interpretazione che ho dato io ai pezzi del puzzle che sono riuscito a comporre. Tenete presente che l'attore, Rufus Sewell, è accreditato come Paul. Quindi un'altra spiegazione potrebbe essere che noi non abbiamo mai visto James, abbiamo sempre visto Paul con il volto di Rufus Sewell e anche Mark Gettys, che è tra l'altro l'autore di Sherlock, quella con Benedict Cumberbatch, nonché interprete del fratello di Sherlock. Se così fosse noi James non l'abbiamo mai visto, Anne ha tentato di voler andare a Parigi con Paul, ma poi Paul ha malmenato Anthony, è finita male e allora Anne non va più a Parigi e questo spiegherebbe che al colloquio con la neurologa Anne nega di dover andare a Parigi e taglia corto perché evidentemente è una cosa che gli fa male non poter essere più andata a Parigi per quello che è successo tra Paul e Anthony. In questo caso la scena finale in cui Anthony è in casa di riposo in realtà non è davvero la scena finale, in realtà in casa di riposo Anthony ci sta nel periodo in cui Anne è a Parigi. Può essere che successivamente si sia lasciata anche con Paul per tornare a vivere insieme a suo padre. Un altro personaggio è la nuova badante che assumono, che è Laura o Lora, che dir si voglia, che è evidentemente molto giovane, potrebbe benissimo essere fresca di laurea, però è molto strano. Lui dice assomigli molto all'altra mia figlia Lucy. In realtà da quello che ho compreso io, sempre rimettendo insieme i pezzi, pare che in realtà noi non vediamo il volto di Laura ma vediamo il volto di quella che era la figlia Lucy, che in realtà esiste, è esistita, ma ha subito un incidente e non c'è più. Ma Anthony non se lo ricorda che Lucy non c'è più e molto probabilmente Anne, per non fargli male, per non farlo soffrire, non gli ripete ogni volta che l'altra sua figlia è morta. E questa è proprio una cosa che consigliano i neurologi, gli psicologi, i caregiver, proprio per non dover fare del male ogni volta al malato. L'altro volto che vediamo dall'inizio alla fine, che è il volto dell'attrice Olivia Williams, che noi potremmo inizialmente abbinare anche al vero volto di Anne, in realtà potrebbe essere comunque invece il vero volto della badante Laura quando invece scopriamo che non è neanche quello, sempre per come l'ho messo insieme io, potrebbe essere invece l'infermiera della casa di riposo, Katrin. Solo questo vi dà l'idea della confusione che può provare un malato di Alzheimer, confondendo volti, confondendo le persone che si occupano di lui, confondendo il passato e il presente. Anthony non è un malato facile da gestire, passa dall'euforia bambinesca, fanciullesca, al vantarsi di imprese che non ha compiuto e anche lì non si capisce mai se crede davvero di averlo fatto o se sta scherzando, come tutte le persone normali scherzano e si vantano magari di cose finte per giocare. Dice alla badante di essere stato un ballerino, quando in realtà nella sua vita pre-pensionamento era un ingegnere. In quanto ingegnere lo vediamo, quantomeno all'inizio del film, che è ancora in grado di saper usare un lettore cd, riesce a inserire un cd in un impianto stereo e credetemi non è scontato per un malato di Alzheimer, riesce ad accendere il tasto della radio e anche questo non è una cosa scontata. Questo lo vediamo all'inizio. All'inizio lo vediamo anche sentirsi a disagio nell'indossare la vestaglia sopra il pigiama quando arriva un ospite. Dopodiché durante il film lo vediamo invece che fa persino fatica a vestirsi, fa persino fatica a inserire la manica del maglione che lo vediamo indossare sempre più spesso. Sempre più spesso indossa sempre quei vestiti, che è un'altra zona di comfort per un malato. Anthony si sente frustrato dal fatto che la figlia Anne si occupi di lui. Infatti lui spesso e volentieri dice alla figlia che lui non le ha mai chiesto niente, che non le ha chiesto il suo aiuto e costantemente continua a sminuirla e a preferire l'altra figlia, Lucy, di fronte a Anne. Questo fa spesso spezzare il cuore di Anne. Per questo dico che Anthony è un malato difficile, perché per la maggioranza della pellicola lo vediamo comportarsi così con Anne. Vediamo anche un sogno lucido di Anne in cui immagina di uccidere il proprio padre nel sonno, proprio per smettere di vivere questa situazione. Lo vediamo solo una volta in tutta la pellicola ringraziare la figlia Anne per tutto quello che fa per lui. Un'altra scena in cui Anne questa volta si lascia emozionare, si lascia commuovere da queste parole, perché sa che deve farne tesoro, perché non potrebbe dirgliele mai più. Anthony cerca sempre il suo orologio, un'altra cosa che simboleggia il disorientamento temporale, ma anche banalmente il fatto che i malati di Alzheimer tendono a nascondere le cose per la casa, oppure anche se le lasciano sempre nello stesso posto tendono poi a non trovarle. Come prima ipotesi c'è quella che qualcuno gli ha rubato delle cose. Vediamo anche come tenta di insinuare che questo uomo, che potrebbe essere James o Paul per l'appunto, che sta indossando un orologio, gli abbia rubato l'orologio. Quando in realtà l'orologio è sempre nel posto dove lo mette, che è un posto assurdo, è uno scompartimento in bagno. Vediamo come quando lo interrompono, mentre sta facendo qualcosa in cucina, prende la forchetta e se la mette nella tasca della giacca. Vediamo come col procedere della malattia persino le parole iniziano a mancargli. Alla fine cerca sua madre, potrebbe davvero cercare sua madre, ma in realtà potrebbe benissimo cercare sua figlia, che ultimamente lo stava accudendo come una madre. Con questo intendevo dire che si invertono i ruoli, che riconosce il proprio caro, il proprio familiare, ma non riesce a dargli un ruolo, non riesce a capire se è la madre o se è la figlia. A un certo punto, nella fine, nel discorso finale, quando appunto sembra quasi che Anthony perda le parole e le sostituisca con altre, che è appunto un altro sintomo della malattia, ma è una fantastica metafora di cosa è l'Alzheimer. Dice, sto perdendo le mie foglie. Anthony si sente come un albero nell'inverno della sua vita che sta lentamente perdendo le foglie, cioè i suoi ricordi, il suo sé sta andando via, sta uscendo da quello che è il suo albero. Lui si sente come un albero spoglio, spogliato della sua essenza, ed è una metafora fantastica, specie se consideriamo che nella scena finale si fa una carrellata dal volto di Anthony, che è triste, è sconsolato, è consolato dall'infermiere in casa di riposo, e questa carrellata ci porta a guardare fuori dalla finestra, dove per l'appunto ci sono un sacco di alberi pieni di foglie, che inesorabilmente le perderanno. Sentirete spesso Anthony passare dal smettila di ripetermi le cose, me l'hai già detto, al nessuno mi dice mai niente, anche questo è un altro sintomo della malattia, proprio perché i caregiver per forza devono ripetere le cose al malato che spesso se le ricorda e spesso non si ricorda comunque nulla e si sente amareggiato del fatto che sia all'oscuro di tutto, nonostante non lo sia davvero, semplicemente non se lo ricordi. Se vi interessa questo argomento, so che nel mio canale si parla per la maggioranza di Dylan Dogg, sono conosciuto perché tratto spesso il tema di Dylan Dogg, vi metto qua in descrizione e qua nelle schede il mio secondo video che ho fatto su Dylan Dogg, che è Dylan Dogg Colorfest, la lettera bianca, un fumetto fantastico che parla proprio di questa malattia, parla proprio dell'Alzheimer, se avete modo di recuperarlo recuperatelo, ovviamente io se riesco vi metto sempre in descrizione anche il modo per acquistarlo, e se vi andrà di scrivermi qui sotto la vostra esperienza, intendo con questo film o qualunque altra cosa, se volete scrivermi anche in privato, trovate eventualmente la mail sempre qua sotto o anche il mio contatto Instagram banalmente, fatelo pure. Se conoscete altri film o telefilm che parlano di questo tema, scrivetemelo nei commenti che io li guarderò e magari farò una recensione e poi nei commenti ne parleremo insieme, o perché no si potrà fare anche una live sul sito Viola, vedremo. Se la cosa vi può interessare, fatemelo sapere qua sotto in descrizione. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi dico che ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Grazie a tutti.